Ben ritrovati, calcio atletica, motori, basket e ciclismo nel sommario della pagina sportiva che apriamo con il calcio, derby numero 58 tra Carrarese e Lucchese relativamente alle sfide di campionato, quella di sabato sarà la 29esima gara in terra puana, bilancio che pende dalla parte dei marmiferi con 12 vittorie, 8 pareggi e 7 successi dei rossoneri, lo scorso anno era l'11 dicembre 2016, il derby finì in parità 1-1 con reti di miracoli per gli apuani al terzo della ripresa e pareggio di forte quasi al novantesimo, stiamo appunto rivedendo le immagini proprio di quella partita, l'ultima vittoria della Lucchese risale invece al 2009-2010 2-0 con reti di Carlotto e Potenza, netta l'affermazione della Carrarese 3-0 nel 2014-2015 con doppietta di Cellini e Castagnetti, mentre l'anno dopo ancora puani al proscenio 1-0 grazie al gol di Cais, intanto la squadra rossonera prosegue nella preparazione complicata dalle condizioni meteo di queste ore, Lopez dovrà fare a meno del laterale Cecchini che sarà rilevato da Russo, nel ruolo di mezzala sinistra tornerà titolare capitano lei al posto di Buratto, Fanucchi deve convivere con qualche acciacco come ormai sappiamo ma alla fine sarà regolarmente al suo posto in attacco al fianco di Bortolussi, per il resto schieramento ampiamente confermato e a questo punto rivediamo però anche, no vabbè non lo vediamo, il gol di Forte, invece c'è una notizia che ci fa un po' meno sorridere, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato fallita l'unione sportiva Arezzo, il giudice Antonio Picardi ha anticipato il pronunciamento concedendo l'esercizio provvisorio condizionato però al pagamento delle mensilità in arretrato in scadenza venerdì 16 marzo, a chiedere l'esercizio provvisorio l'azionariato popolare Orgoglio Amaranto che deteneva la minoranza del pacchetto societario, la maggioranza era in mano al consorzio romano Neus, l'esercizio provvisorio che scatterà automaticamente dopo il pagamento delle mensilità sarà gestito dal curatore nominato contestualmente, c'è da capire adesso quello che succederà nelle prossime ore e se l'Arezzo che ha già rinviato alcune partite domenica, sabato scenderà regolarmente in campo o meno. Scendiamo in eccellenza, facciamo il punto sul campionato del Castelnuovo ormai a poche giornate dalla fine. Rivederli ancora così a festeggiare sotto la tribuna del Nardini in un periodo fitto di impegni che sarà decisivo per il destino stagionale del Castelnuovo nel campionato di eccellenza. La squadra giallo-blu, unica rappresentante del calcio provinciale in questo torneo, è uscita rinfrancata dalla ventisettesima giornata grazie al successo di Fucecchio per una zero con rete timbrata dal solito geniale Gori. Gori crea e Leon conserva, visto che anche al Corsini il giovane portiere si è confermato su livelli di assoluta eccellenza. Non tutte le domeniche potrà parare due rigori come contro la capolista Cuoio Pelli, ma il talento e la classe ci sono e come. Ne consegue una classifica che a tre giornate dalla fine vede il Castelnuovo attestato a 32 punti in compagnia della Portuale, ma con una partita in meno così come gli stessi Marinelli e San Gimignano, Grosseto, Poggivonsi e San Marco Avenza. Al momento ci sarebbe spareggio salvezza solo tra Gambassi e Fucecchio, ma da qui alla fine sarà bene rimettere in cascina un po' di fiena. A cominciare dalla gara interna di domenica prossima, ore 14.30, che vedrà la squadra Garfagnino ospitare l'atletico Cenaia, con pagine che precede Tolaini e compagni di un solo punto. Piuttosto palese l'importanza della gara che sarà seguita dal recupero di mercoledì 21 con il forte San Gimignano. Poi la lunga sosta fino alle ultime due giornate, 8 aprile a San Mignato e il 15 a chiudere tra le Muramiche contro Castelfiorentino. Ancora successi per la Virtus Lucca, campionati regionali invernali di Lanci svoltisi al campo Cino Cini di Pisa. Parliamo dei campionati allievi. A rendere il bottino lucchese, a rimpinguare il bottino lucchese, è stata la solita Asia Salerno, che da atleta poliedrica quale si è laureata campionessa toscana nella categoria allieve in due discipline. Si è imposta nel disco con la misura di 32,05 e nel lancio del giavellotto con 34,05, portando così a casa due medaglie d'oro con relativi primati regionali. Ed ora siamo ai motori, si avvicina a grandi passi l'appuntamento con il 41esimo rally del Ciocco. Manca una settimana ormai e l'appuntamento si profila davvero di altissimo livello. Casta stellare al 41esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio, a cominciare da Paolo Andreucci, presenza non certo scontata solo fino a qualche settimana fa, a difendere il suo titolo 2017, il decimo di una serie da leggenda. Rivali agguerriti i soliti noti, Umberto Scandola su Skoda Fabio e Simone Campedelli sulla For Fiesta, ultimo vincitore al Ciocco, ai quali si aggiunge Andrea Crugnola, pretendente al titolo assoluto e presumibilmente con un occhio al campionato italiano rally asfalto, il cui gruppo degli aspiranti è nutrito. Il giovane siciliano Marco Pollara, il molisano Giuseppe Testa, l'esperto Antonio Rusce, il comasco Kevin Gilardoni e una pattuglia di toscani di qualità come i lucchesi Rudy Michelini e Luca Panzani, oltre a Leopoldo Maestrini. Fuori campionato, ma vera guest star Takamoto Katsuta, il pilota giapponese pupillo di Tommy Makinen che a recente rally mondiale in Svezia ha messo in riga tutta la strepitosa concorrenza del WRC2, un assaggio di un elenco di scritti che promette di arricchirsi nelle ultime ore. Ma aumenta anche il tasso di spettacolarità adrenalina della prova speciale spettacolo Forte de Marmi, la numero uno che nel pomeriggio di venerdì 23 marzo darà inizio alla corsa e al CIR 2018. Diventata in breve tempo un must, la Forte de Marmi presenta un percorso profondamente riveduto e corretto, anche se sempre disegnato sullo splendido lungomare della perla del Tirreno. Sarà una sfida incrociata, questa è la grande novità, un duello simultaneo che vedrà impegnati due equipaggi alla volta. Rimanendo al rally del ciocco aggiungiamo che sabato 17 marzo alle 12 nella sala giunta del comune di Forte de Marmi ci sarà la presentazione ufficiale dell'edizione 2018 appunto del rally del ciocco e saranno resi noti anche i dettagli della prova speciale spettacolo che si svolgerà proprio come dicevamo nel servizio sul lungomare di Forte de Marmi. Il Cefa Basket Castelnuovo dopo un buon avvio siamo nel campionato di promozione, cede di schianto ai rosso-blu junior Montecatini sconfitta in dolore 67 a 35 per la classifica in vista della fase ad orologio ma i play-off restano tutti da conquistare. La fase ad orologio vedrà dunque la squadra del presidente Vincenzo Suffredini dover difendere il terzo posto in classifica e quindi i play-off. Chiudiamo con il ciclismo con Ceria Zabri-Fanini protagonista, la formazione del general manager Manuel Fanini ben diretta da Maurizio Giorgini ha colto due prestigiosi i piazzamenti a Chambery in Francia, Carmela Cipriani ha sfiorato il podio classificandosi al quarto posto, bene anche Elena Franchi che è giunta nona. La Conceria Zabri-Fanini tornerà in gara ad inizio aprile in una prova open a Schiavone ad Este in provincia di Padova. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e poi la terza ed ultima parte.